La dottoressa Cornigli è molto conosciuta nei social e direi già vi ho parlato in uno dei miei video del passato, tuttavia questa giovane dottoressa che tra l'altro sembra essere abbastanza brava nell'ambito dei tumori, degli ancri, ha parlato proprio di tumori facendo sapere che al suo dire proprio il tumore e lo stress sono letteralmente collegati tra di loro. La donna avrebbe riferito che i pazienti, i suoi pazienti col cancro purtroppo hanno giufferto tutti per via, per colpa di un evento di tipo stressante prima di andarsi ad ammalare, quindi prima di purtroppo incorrere nella patologia chiamata cancro. Un eccesso di ormoni infatti può diventare cancerogeno per l'organismo perché va a sopprimere le funzioni del sistema immunitario andandolo a indebolire, a favorire infiammazioni ma anche ad inibire quello che è il corretto, giusto funzionamento delle cerve. Va bene? Insomma, è una vicenda incredibile, pur esempio che qualcosa di vero ci sia. La dottoressa è in questione, è molto brava, non è una stupida, è una scena secondo il mio punto di vista ed è veramente totalmente intelligente e carismatica. Bene, iscrivetevi e commentate, una buona giornata a voi tutti.